E' già pronta una proposta di delibera al centro, il tema importante delle frazioni, la presenterete già a partire dal prossimo lunedì? Sì, il gruppo consigliere di Cerco Arezzo, grazie alla collaborazione della lista civica con Arezzo, che aveva presentato una proposta alle ultime elezioni amministrative, depositerà una proposta di delibera per abbassare un punto elevatorio nei confronti dei cittadini. Un nuovo modello che ricostruisce la vecchia modalità di decentramento legata alle circoscrizioni attraverso i consigli di quartiere e consigli di frazione. Uno strumento che consentirà ai cittadini di poter dire la propria su molti argomenti, soprattutto legati alla piccola manutenzione e a tutti i grandi gesti e piccoli di attenzione di cui le frazioni hanno bisogno. Prosegue in questo modo il progetto delle liste civiche di Cerco Arezzo? Assolutamente sì, continuano le assemblee pubbliche, gli incontri, le proposte dei cittadini diventano fatti concrete attraverso proposte delibere. Questo è il modo in cui ci piace fare politica e sentiamo la necessità in questo territorio, in questo momento, di ravvicinare i cittadini alle istituzioni. La proposta di Scelgo Arezzo prevede che i consigli di frazione di quartiere siano composti da cinque membri rieleggibili, la cui durata è equiparata a quella del Consiglio Comunale. Una soluzione per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini all'azione amministrativa, come sottolinea Alessandro Meucci della lista Conarezzo. Questa città ha bisogno del protagonismo di ogni singolo individuo per crescere, per migliorare nei servizi e per ricostruire quel rapporto tra il territorio e la politica che con questa amministrazione si sta perdendo.